La collocazione dell'arrivo e della partenza dei bus turistici riscontra delle problematiche da parte di voi guide. Quali sono queste problematiche? Il fatto di aver spostato da Via Fiume a Via Le Fieschi il carico-scarico dei pullman turistici attualmente comporta che i gruppi devono percorrere una distanza di circa un chilometro. Questo comporta circa dai 25 ai 30 minuti di percorrenza andare e poi ritornare nel pomeriggio e quindi vanno rivisti tutti i programmi che si fanno normalmente con i gruppi. Il che peraltro ci sono persone che hanno difficoltà motorie, persone che camminano lente e quindi questa distanza comunque per queste persone le mette già in difficoltà prima di iniziare una giornata di visita alle 5 terre. La situazione che ormai si presentava in Via Fiume era una situazione complessa. Ci sono delle soluzioni di mediazione? Come guida noi ne siamo assolutamente consapevoli. Una soluzione secondo noi assolutamente proponibile sarebbe quella di un servizio a chiamata. Un operatore in Via Fiume ed un altro operatore nel punto dove i pullman via Fieschi va benissimo possono attendere la chiamata. Nel momento in cui il gruppo è pronto la guida chiama l'operatore, l'operatore chiama il pullman. Al massimo 3-4 pullman si fanno arrivare per volta. Questa operazione secondo noi potrebbe comportare 5-7-8 minuti. Il pullman carica e va via. Ci sono degli operatori che hanno avuto già delle rimostranze? Sì, questi tempi naturalmente modificano i programmi e ci sono operatori che non riusciranno a fare le giornate alle 5 terre e quindi eventualmente riconsiderare altre destinazioni. In un'ottica in cui ancora ieri sera ad un incontro a Palazzo Ducale in cui un Open Day dell'Agenzia Liguria per la promozione turistica, il Presidente Totti parlava di cercare di incrementare ancora il turismo in Liguria che attualmente è l'8% del PIL, portarlo ad una doppia cifra del 12-13%, cercare di trovare delle soluzioni strutturate che possano con la condivisione e la collaborazione di tutti gli operatori portare a un mantenimento o ancora un incremento, secondo noi sarebbe la soluzione auspicabile.